Vetreria Ferrari, l'arte della lavorazione del vetro dal 1979. L'azienda, situata da Grat e Brianza, dispone di un capannone di 1.400 m2 dove lavora il vetro su commissione per l'intera provincia di Milano. Esegue ogni tipo di trattamento contoterzi per vitri, specchi e cristalli con l'impiego di macchinari alla vanguardia e un parco macchine in costante rinnovamento. Lavora in piccola e grande serie ed è il partner ideale sia per il piccolo committente privato che per industrie di grandi dimensioni. La vetreria Ferrari esegue tempera piana, molatura a controllo numerico, lavorazione a tonno, incisione, sabbiatura, bisellatura, taglio a getto d'acqua solo per citare qualche esempio. Visitate il sito www.vetreriaferrari.it per poter visionare nel dettaglio tutte le lavorazioni eseguite dall'azienda. Grazie a tutti!